Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Paran Red come vedete siamo ritornati nel mio canale e lo so che in questo mese avevo detto sì, forse ci saranno un paio di video una settimana ma come avevo detto forse anche zero mi dispiace ragazzi non ho portato video oltre per il tempo anche per noia perché comunque poco tempo che avevo libero mi sono rifiutato di fare video o magari quando avevo voglia non avevo l'occasione diciamo che per noia è stato molto poco cioè un giorno su 20 che sono venuti quindi figuratevi non perché non volevo fare video anzi la cosa che volevo fare di più beh ragazzi tralasciando ciò della cosa in cui volevo parlarvi assolutamente è che finalmente vi dirò tutto e delle cose nuove e in cui parlerò anche dello show per una piccola parte poi tra 3-4 giorni ci sarà un video in cui parlerò proprio principalmente di questo show però vi accenderò delle cose principali come vi ho già detto per il mio canale ci saranno diverse tipologie di video dal game a viaggi alla musica e cose del genere ok questo già ne avevamo parlato bene ho detto che ci saranno giochi da tavola che sarà la parte principale del mio canale ma in realtà non per la quantità di video ma nel senso che dove ci sarà maggior impegno da parte mia poi comunque ho anche un'altra idea da inserire nel mio canale che poi pian piano me ne accorgerete da sole è inutile ritornare a spiegare le solite cose però in modo semplice e chiaro adesso oggi si ritorna con il mio canale ma al 100% in cui ci sarà qualità e quantità di video nel senso che comunque ritornando a casa e avendo di nuovo una casa mia una stanza mia roba mia molto più tempo libero del solito posso ritornare a fare video in che senso tempo libero più del solito non è che cambia la mia vita magicamente che domani ho 24 ore su 24 semplicemente molte cose saranno tagliate quindi significa più tempo per hobby meno tempo per tra virgolette dovere tralasciando ciò la cosa più importante è ci sarà un secondo canale ok un secondo mio canale insieme ad un amico in cui questa parte sarà molto separata dal mio attuale nel senso che si lavorerò lì si avrò il mio stesso nome non cambia nulla non c'è nulla di particolare ma sarà fatto a due persone questo è il modo semplice ovviamente adesso non vi parlerò non vi dirò il nome non vi dirò nulla perché comunque abbiamo aperto sia pagina canale instagram e tutto però ancora non abbiamo le immagini sono in lavorazione e dobbiamo ancora parlarne noi bene e lavorarci sopra come avete visto comunque anche del mio canale attuale ho cambiato la grafica in sé non so se molti se ne sono accorti ma non ne ho parlato in quel video precedente semplicemente perché ancora non l'avevo fatto era in lavorazione oggi ne parlo come avete visto ho cambiato sì mi sono ispirato a quei due server sicuramente molti l'avranno notato questa ispirazione o copia perché comunque molti penseranno avrà copiato no semplicemente che le loro idee sono sempre state le mie semplicemente che loro hanno sempre lavorato lì io mi sono sempre detto devo farlo non devo farlo sicuro che questa è una cosa che devo fare perché comunque mettere un video su youtube lo mostri al mondo intero è diciamo è una cosa che devi fare bene devi farlo con le cose giuste ora che ho le attrezzature ho roba ancora da finire da completare cosa che farò posso farlo anche io sicuramente non come loro perché comunque sono professionisti lavorano da 20 anni li si può dire io da poco mi avvicino tra tante virgolette a questa qualità ne metto tra virgolette perché comunque serve tempo per migliorare sì ho la fotocamera da 400 euro ok sì ho il computer molto più potente ok sì ho dei programmi comprati o quello che volete ok comunque se non imparo bene se non lavoro sì ci sono tanti sì e ma che mi fanno dire devo prima migliorare questo è vero magari i primi video faranno schifo magari tra tre mesi la qualità migliora perché ho imparato bene la fotocamera in sé e diciamo che questo è un discorso a parte tralasciando ciò io volevo parlare la maggior parte del mio tempo in questo video del secondo canale come vi ho accennato sarà con un'altra persona in cui in questi giorni tra una settimana quattro giorni tre giorni ci dovrà vedere perché comunque devo sistemare alcune cose comunque devo risistemare il mio computer in un'altra zona ricambiare tante cose quindi magari i video li farò però saranno postati una settimana dopo magari tralasciando questo ancora nel mio canale secondario si può dire perché comunque primario è questo qui che sono diciamo il mio primo canale quindi questo primario è secondario ma è una cosa giusto per distinguere i due canali come vi ho accennato ci saranno lì questo show di cui abbiamo vi ho accennato spesso in cui serviranno attrezzature particolare attrezzature in cui tra una settimana o due settimane arriverà tutto quindi diciamo che verso maggio ci sarà questa operazione di questo show lasciando questa parte dello show ci sono anche altre cose in questo canale che non saranno uguali a quello che farò nel mio quindi sappiate che se seguite uno non seguirete altre cose che ci saranno lì magari adesso non vi dico eh andate iscrivervi che ci sono video non c'è nulla è inutile che lo dica adesso ma lo dirò quando ci sarà sicuramente un video o almeno la grafica del canale quindi nel prossimo video sicuramente vi accenderò di questa cosa poi me ne parlerò chiaramente di altre cose questo era tutto ciò che volevo dirvi comunque mi spiace che il canale come ha avuto un video un mese fa o due mesi fa ce n'è stato uno al mese o tre al mese che ha portato a dire cavolo non è fatto un tubo è fatto due live a caso ma dalla copertina di facebook di youtube del mio canale come avete visto ho inserito dei giorni ho inserito dei giorni delle live in cui verranno rispettati non adesso perché vi ripeto devo ritornare devo riprende sistemare tutto devo rifare tante cose quindi magari non ci saranno video tra domani un altro video semplicemente i video ci saranno tra una settimana due settimane magari uno in meno uno in più semplice chiudiamo questo capitolo vi ho spiegato un po' tutto questo non era un altro video come l'altro per dire ehi devo fare questo questo e questo non lo farò mai invece lo farò semplicemente l'altro video accennato che magari non poteva esserci nessun video in questo mese ma da oggi alla prossima ci saranno video bene ragazzi questo era tutto ciò che volevo dire ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti